Inizia il sesto anno Hogwarts. Harry deve guardare nel passato per affrontare il proprio futuro. Harry Potter e il principe mezzosangue in concerto. Lasciati incantare dall'orchestra italiana del cinema che segue l'indimenticabile colonna sonora con l'impero film proiettato sul grande schermo. Vivi con noi la magia delle uniche date italiane. Milano, 13 e 14 dicembre. Roma, 27 e 28 dicembre. Acquista subito il tuo biglietto su TicketOne. Grazie.